Buonasera da Maiori. Qualche settimana fa ci siamo regati qui al porto a documentare i danni delle scorse mareggiate di quasi due mesi fa. Qui la situazione è mutata come si può ben vedere. Lo scenario è davvero indescrivibile, incredibile, come si può ben vedere. In questi giorni poi, in qualsiera, ci sono state diverse frane e anche all'entrata di Salerno, tra Vietri e Salerno, c'è stata una frana oggi. Non si può ben vedere, niente è stato fatto qui al porto. Il giornalista svolge sempre più ruolo di watchdog. Sorveglia, documenta. Buona serata dal porto di Maiori, a presto.